L'iniziativa del C3A con le sue proposte formative è un'iniziativa che porta molti elementi di didattica innovativa e che danno la qualità al corso. Immaginiamo che su 1780 ore di lezione ben 170 sono di esercitazione in laboratorio, in campo, in cantina, dove si impara a fare realmente le cose. Questa qualità è anche premiata dalla grande richiesta di accesso al corso. Noi abbiamo un numero programmato di 75 posti e quest'anno ben 500 studenti o candidati studenti hanno partecipato alla selezione per accedere al nostro percorso formativo.